Lei si proietta in una dimensione di produzione di investimento internazionale e allora in riferimento a tutto ciò che è accaduto, se io fossi il direttore di un giornale e titolassi l'articolo che sintetizza quanto accade con il titolo Moncada costretto alla fuga, sarebbe un titolo sbagliato, eccessivo? No, non sono costretto alla fuga, anche perché continuerò a fare quello che sto facendo pur facendo business da altre parti. No, semmai ci sono alcuni giornali, tipo il Financial Times che ha fatto un articolo su di noi in cui dice che non sembra neanche vero che ci sia un'impresa di questo genere in Sicilia. Quindi voglio dire, alla fine, se è un giornale di tiratura internazionale in inglese distribuito in tutto il mondo, ha attenzionato il nostro caso e poi guarda tutto quello che c'è attorno probabilmente nota questa nota stonata e se è una nota stonata non è che io faccia niente particolare, io faccio l'imprenditore. Probabilmente va male tutto il resto perché le nostre attività in questo momento va bene, vogliono non farla andare bene, è un altro discorso, ma noi non siamo nati ricchi, siamo nati poveri, non poverissimi, cioè siamo nati da famiglia benestante ma non ricchi e siccome ce lo siamo, come dire, guadagnato con tanti sacrifici quello che abbiamo fatto, è difficile che ce lo possano levare in maniera così facilmente, quindi lotteremo con 270 mascelle di dipendenti, quindi è un po' difficile. Il settore eolico dell'energia alternativa in genere rappresenta uno dei business del terzo millennio e compreso ovunque, anche nell'ultimo piano casa della regione siciliana. In riferimento a ciò, lei sospetta che delle lobby a livello regionale, che nutrono degli interessi particolarmente incisivi verso il settore energetico, possano tramando nell'ombra in un certo qual modo avere condizionato, se non deviato, l'indirizzo politico ordinario normale del governo regionale nel settore energetico? Premetto che l'indirizzo non è del governo regionale, è della comunità europea, poi fatto proprio dallo Stato italiano, poi a sua volta fatto proprio dalla regione siciliana, quindi è una cosa che riguarda tutta l'Europa. Sicuramente le denunzie che noi abbiamo fatto presso la Procura della Repubblica di Palermo nei riguardi di alcuni funzionari messi lì ovviamente dalla politica e messi lì probabilmente dall'attuale politica, stanno facendo male. Cioè il fatto di denunziare che ci sono alcune autorizzazioni che vengono rilasciate, altre no, o il fatto di chiedere ai sensi della norma sull'accesso agli atti, quali pratiche siano state protocollate, inghiddate, quali sono state vase e quali no, sono tutti i comportamenti del nostro gruppo che danno non fastidio, enorme fastidio. E questo ovviamente poi fa sì che ci siano tutta una serie di comportamenti a tentare di farci male. A tentare, speriamo che non facciano male, perché sai, poi i poteri occulti sono così, molto spesso così potenti, mascherandosi dietro anche un'antimafia di facciata, perché voglio dire, io chi mi conosce sa che ho fatto arrestare i mafiosi, altri hanno avuto solo minacce di mafiosi, quindi è un pochettino differente la situazione. Non voglio fare questa precessione perché non ritengo che sull'antimafia bisogna dire io sono più bravo dell'altro. Però, però, dico, probabilmente non vorrei si usasse questo strumento che fino ad oggi è stato utilizzato in politica, con gli imprenditori per decidere chi fare o meno impresa. Sarebbe un grave, grave errore, perché significherebbe far cadere delle iniziative industriali sul nostro territorio. E di questo, voglio dire, ne piangerebbero soprattutto un gran numero di persone. Lei, poc'anzi, ha ricordato che ha presentato delle denunce anche nei confronti di alcuni funzionari poco diligenti, poco preposti alle proprie responsabilità. Qualcuno le ha mai chiesto delle tangenti dei soldi per lubrificare il sistema della concessione delle autorizzazioni? Ma sa, il livello, come dire, il livello delinquenziale di alcune persone si è elevato, ecco. Ormai non chiedono più soldi, ormai non chiedono più soldi, posso, non chiedono più soldi, ma, per esempio, chiedono di vendere progetti. E allora, quando ti chiedono di vendere progetti, poi, alla fine, sono sempre gli stessi personaggi. E io gli dico, non sono interessato perché noi non compriamo progetti. E parliamo di milioni e milioni di euro di progetti. Poi sono quelli che, tra l'altro, ti chiede di venderti un progetto che ti rilascia le autorizzazioni. Questa cosa comincia a... C'è qualcosa che non comincia a funzionare più. E allora, il fatto di avere denunciato queste cose probabilmente dà fastidio. I soldi non ce l'hanno chiesto, anche perché sanno perfettamente come la pensiamo. Cioè, non diamo soldi ai mafiosi, immaginiamo se iniziamo a darle al... al piccolo, grande delinquente che troviamo dietro la schifania. Assolutamente. Però la sensazione è che sia... che ci sia un sistema un po' più ampio. nel senso che non è un fattore isolato come era una volta o come si pensa fosse una volta del funzionario, ma sia più ormai un sistema. Perché se poi alla fine tutto questo tipo di comportamento lo ritrovi in diversi enti e che alla fine ti dicono guarda, se non arriva la circolare alla regione siciliana non ti posso rilasciare il parere. Ma sa, se non ho il sì del mio capo che c'è a Palermo non ti posso rilasciare l'autorizzazione. Ma sa, ma non sono chiare le procedure e deve andare in regione siciliana. Sembrerebbe come se volessero concentrare in un unico punto il rilascio dei pareri. Così è probabilmente ma non solo per una razionalizzazione dei permessi probabilmente anche per altro. Nel recente passato e non solo gli imprenditori più facoltosi e soprattutto con più dipendenti sono stati sempre coccolati tra virgolette dalla classe politica di governo nel senso che hanno costituito innegabilmente un serbatoio di voti particolare e quindi una sorta di tesoro prezioso da sfruttare all'occorrenza del voto. Lei, Presidente Moncada ha ricordato più volte che ha 270 dipendenti che non sono noccioline. e allora ha denunciato l'indifferenza in un certo qual modo dell'Associazione degli Industriali di Confindustria e invece da parte della classe politica lei ha una tessera di partito in tasca i partiti l'hanno sostenuta. Io ho tantissimi amici in provincia di Grigento che fanno politica e fino a quando non ci sono come dire argomenti di scontro nel riguardi come dire nel riguardi della di un apparato governativo tutto fila bene tranquilli, sereni prendiamo assieme il caffè su alcune posizioni non ho mai visto prendere le posizioni perché prima di tutto si guarda l'equilibrio politico poi si guarda altre situazioni io più volte per esempio ho detto come mai nessuno prende posizione sul discorso del dragaggio del porto molti politici hanno preso posizione i politici che abbiamo in regione siciliana no e come mai non si prende posizione sul fatto che non vengono rilasciate le autorizzazioni poi vedo spesso la farsa da parte di alcune commissioni anche la stessa commissione antimafia regionale commissione attività produttiva regionale ogni tanto quando faccio dei comunicati convocheremo il geometra moncata e la commissione più volte lo dicono non sono stato mai convocato mi sembra che sia più una grande come dire un grande teatro che alla fine voglio dire lascia tutti contenti voglio dire siamo tutti sorridenti però le cose restano come sono ovviamente da imprenditore questo io non lo posso accettare ma non lo posso accettare perché limita la crescita della mia azienda che già voglio dire seppur spedita negli ultimi anni non ha ottenuto autorizzazione da parte della regione siginiana e quindi lei comprende che in termini se non le varianti che in termini di sviluppo e di prospettive per i miei collaboratori devo preoccuparmi anche se noi adesso abbiamo lavoro non ci preoccupiamo ma devo preoccuparmi per quello che sarà il futuro perché vedete a parte la fabbrica anzi le fabbriche noi abbiamo diversi collaboratori che lavorano nel campo delle costruzioni degli impianti elettrici e così via se io vado a lavorare in Bulgaria le costruzioni le faccio con le maestranze bulgare non le faccio con quelle sigiliane se vado a lavorare in America le costruzioni le faccio con le maestranze americane non le faccio con quelle sigiliane e quindi è vero che da un punto di vista dell'apparato ecco dello sviluppo della mia azienda mancherà poco se vado a lavorare in un'altra parte però è pure vero che si perdono personale su questo territorio e io penso che questo invece è quello su cui dovrebbero pensare moltissimi i nostri politici oggi non vedo una presa di posizione anche perché torno a ripetere si tende a non inimicarsi nessuno a stare lì a fare a sopravvivere in questo equilibrio che alla fine non giova a nessuno questo è dato di fatto grazie a tutti grazie a tutti